A due giorni dall'amichevole di Palena contro la Dana Demir Spor cresce la curiosità per vedere all'opera il peschera di Alberto Colombo e i tanti volti nuovi di una squadra che però è ancora incompleta in alcuni reparti. Continuano a mancare un portiere titolare e un vertice basso di centrocampo e per questo il DS Dellicarri continua a sondare il mercato alla ricerca delle migliori opportunità. Sul fronte portiere resta attuale il nome dell'esperto Mauro Vigorito, 32enne di proprietà del Cosenza, con cui ha perso il posto da titolare nel finale della scorsa stagione e non rientra nei piani dei Silani. Due fattori ostacolano l'operazione, l'alto ingaggio e il forte interesse di un'altra nobile di C, il Vicenza, squadra nella quale Vigorito ha militato dal 2014 al 2017. È impredicato di cambiare aria Matteo Pisseri dell'Alessandria, il giocatore è nei radar di Dellicarri, ma ha un contratto in scadenza nel 2024, non rientra nei piani dei grigi che però vogliono monetizzare. Dalla sua partenza. Nomi accostati da settimane sono anche quelli di Jacopo Furlan, di proprietà dell'Empoli, e Giacomo Venturi, titolare della Reggiana fino allo scorso anno, ma ora chiuso dall'arrivo di Martin Turk. Chi arriverà completerà il trist di portieri, con Daniele Sommariva, giunto dal Monza, e Andrea Daniello, in uscita dal Cagliari Primavera. Sul fronte centrocampo il Pescara ha presentato offerta formale all'Avellino per Salvatore Aloi. Non è un play puro, ma può interpretare quel ruolo, quello che trapela da Mercogliano, sede del ritiro degli Irpini, e che Aloi è lusingato dalla proposta di Dellicarri, ma deve trovare l'accordo con l'Avellino e non è detto che la situazione si sblocchi a breve. D'altro canto il Pescara continua a tenere d'occhio Andrea Ghion del Sassuolo, ma in prestito al Perugia. Intanto sono giunti in Abruzzo e sono in ritiro a Castel di Sangro i turchi della Dana Demir Spor, che come detto sfideranno il Delfino in amichevole domenica a Palena. Grande curiosità dei tifosi per la squadra allenata da Vincenzo Montella e nelle cui fila milita Mario Balotelli, subito atteso per dei selfie. Super Mario, su cui c'era il forte interesse del Sion, domenica dunque ci sarà, salvo accelerazioni di dinamiche di mercato. Il Pescara riabbraccerà l'ex Birkir Bjarnason. Tra i pilastri della squadra turca c'è anche il 38enne veterano Gokhan Inler, otto anni in Serie A tra Udinese e Napoli.